Ok, allora sono a rimontare la molla originale della carabina Diana 350, fai vedere quanto sono diverse le due molle, no, tieni l'orizzontale, poi taglio, l'originale è questa e questa è la molla customizzata, molto più precisa con questa, adesso rimettiamo questa e vediamo come cambiano le cose, non me lo ricordo più perché è un lavoro che ho fatto tanto tempo fa, ah, voglio vedere come è fatto un, questo è un compressore per molla dove senza questo non si lavora, qui c'è questo utensile che serve per mettere in pressione la molla dentro quando si va a ricacciare, in questo modo, poi ci si mette il gruppo grilletto e infine lo si pigia dentro, stop! Grazie! 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 Grazie!